Stamattina il welcome, tutto in English ovviamente. La Marco Polo di Calvizzano si apre al mondo e all'Europa e lo fa nel migliore dei moi accogliendo studenti provenienti dalle scuole partner del progetto Comenius. Un grande benvenuto grazie alla preside Armida Scarpe, il corpo docente e loro, i protagonisti dell'intera manifestazione, i giovani studenti della scuola media. Sarà una tre giorni tutta da vivere, quella in programma da oggi fino a giovedì, i ragazzi coinvolti nel progetto Comenius Mission in the Future sui temi dell'ecosostenibilità visiteranno le meraviglie di Napoli e provincia, oggi un safari fotografico nel centro storico del capoluogo, poi la visita al Vesuvio e gli scavi di Ercolano ed infine giovedì la visita alla Solfatare, il gran finale con il gala organizzato presso Villa Holiday. Una festa speciale che si aprirà con una sfilata di 30 abiti, tutti realizzati con materiali riciclati che rappresentano la voglia di rinascere nel nostro territorio a partire dai quattro elementi base, terra, area, acqua e fuoco. Dopo la cena con le istituzioni cittadine la musica sarà protagonista con un DJ del tutto speciale, Fergal Kavanagh, famoso per il suo metodo innovativo nella didattica delle lingue, basato sull'uso delle hit del momento. Stamattina dopo l'accoglienza lo scambio dei doni e delle prime piccole conversazioni tra ragazzi. Questa città è per Calvizzano, ti piace? Sì, sì. Sei felice di stare qui? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sono qui in visita, si aprirà con un giro per Napoli, poi ci sarà la visita ai siti archeologici e naturalistici più importanti e alla fine giovedì un grande appuntamento. Sì, certo. Un grande appuntamento a Villa Holiday dove ci sarà appunto questo fashion show che è stato programmato nell'incontro che loro hanno fatto in Turchia due anni fa e che quando hanno deciso che l'Italia avrebbe ospitato, tutto il progetto lavora sull'ecosostenibilità e ogni tappa degli incontri ha avuto un suo tema specifico. Quando hanno sentito che era l'Italia hanno detto che l'Italia è la patria della moda e quindi il tema del riciclaggio doveva essere rissuto creativamente. E io vorrei ringraziare a parte della nostra squadra per l'ospitalità che siamo arrivati qui. Anche la delegazione greca oggi a Calvizzano per il progetto Comenius. È un progetto per gli studenti molto importante perché gli studenti hanno la possibilità di incontrare i loro colleghi di altre nazionalità. Sono molto contento per venire in Italia. Dove sei? In Germania. Sei felice di essere qui in Italia? Sì, è bellissimo. Non è così caldo come in Germania. Io vengo da Grecia. Quale città di Grecia? Drama, in Macedonia. E sei felice di essere qui in Italia? Sì, sì, sono molto felice. E cosa pensate di questo progetto Comenius? È interessante per gli studenti? È un programma molto buon programma perché gli studenti apprezzano come essere sensitivi con la natura e questo è molto buono. e come se può comunicare con le persone di altri paesi. Grazie.